Spiacenti, il terreno non è il vostro. I giardinetti di via Sacra Famiglia a Frosinone non sono su un'area del comune, nonostante ci spenda da anni i soldi per la manutenzione, il verde, i giochi. Il problema è venuto fuori durante i sopralluoghi per la realizzazione di quella che punta a essere la più grande piazza di Frosinone, inglobando i giardinetti della Sacra Famiglia, i parcheggi per le auto su entrambi i lati, il piazzale delle Corriere, fino all'ingresso della stazione e tutto piazzale Cambo, insomma un'unica immensa piazza sulla quale si affaccia la caserma dei Carabinieri e la chiesa. Ma con le aree che non sono del comune come si fa? Abbiamo coinvolto quelli che sono gli enti titolari delle aree, da una parte c'è l'Agenzia del Territorio e quindi un ente pubblico a tutti gli effetti, dalla l'altra c'è un altro grande ente pubblico che però è un ente pubblico economico, ossia le FS, le Ferrovie dello Stato. Abbiamo chiesto a loro la possibilità di fare insieme una riqualificazione di tutta l'area per costruire una grande piazza sul modello di quelle rinascimentali, quindi senza troppi fronzoli, ma una piazza che potesse permettersi di ospitare gente a livello di aggregazione e anche rifare quella che è la stazione della città di Frosinone. C'è poi il problema dei soldi. La soluzione potrebbe essere il nuovo maxiparcheggio da realizzare a servizio dell'area della stazione. In altri termini, con la gestione di parcheggi che si potrebbero ricavare all'atere, quindi a margine di questa piazza, ci potrebbe essere l'opportunità di stendere un accordo con imprenditori privati che mettano della finanza privata per la riqualificazione dell'area per il rifacimento della piazza e possano ritornare poi dell'investimento con l'incasso dei parcheggi privati. Intanto si parte con le modifiche alle rotatorie. In giornata è stato il turno di quella di via Valle Fioretta, ora è più snella. Abbiamo istituito questo nuovo sistema che permette al traffico di defluire con maggiore tranquillità, quindi con maggiore fluidità. Nella zona del vecchio passaggio a livello, quindi stiamo parlando della zona di via Gaeta, i famosi sottopassi, stiamo anche lì effettuando la costruzione di alcune piccole rotatorie.